Tutte noi abbiamo una zona con la quale non ci troviamo a nostro agio, vero? Ad esempio la zona che stiamo vedendo è proprio quella che mi mette più a disagio, quella che davvero mi fa sentire male, migliorare la grana e la consistenza della pelle. Tutto ciò che dobbiamo fare è andare ad applicare il nostro gel, andare a selezionare il livello di intensità del nostro dispositivo ed è fatta incredibilmente leggero e facile da usare. Vedete la nostra Alessandra, lo sta utilizzando anche nell'interno cosce, questo per dirvi che è una parte delicata che proprio non fa male assolutamente. Insomma tutte noi vorremmo migliorare il nostro aspetto del corpo, ci sono delle parti magari che ci danno particolarmente fatta niente, perché noi investiamo la prima rata, ma sapete benissimo che se non dovesse piacervi per qualsiasi motivo ce lo restituite e noi vi riferete, quindi praticamente meno di 40 euro per provarlo. E guardate, vedete, anche le più magre. Questa è la mia zona che... You can relax knowing it's working because you feel the vibration.